Il sindaco prendesse a cuore questa faccenda della sicurezza e anche noi proporremo la rimozione della telecamera nella piazza perché quella telecamera è soltanto un balzello per far cassa alle spalle delle persone che passano sotto la telecamera. Quindi rimozione della telecamera e nuove telecamere, maggior sicurezza perché i cittadini sono veramente all'esasperazione, non se ne può più, di tutte queste persone che girano la notte per paese, dei furti che vengono fatti. Tra l'altro il sindaco sa bene che erano state anche raccolte delle firme sia su Caspri che su Pulicciano, erano state fatte petizioni, quindi l'argomento è fortemente sentito dalla popolazione.